Riteniamo che all'interno degli istituti scolastici i ragazzi devono capire quali sono i diritti che durante la loro lunga vita dovranno affrontare, oltre ai doveri ovviamente. Quest'anno abbiamo scelto un articolo della Costituzione, il tema fondante di questa giornata, è l'articolo 3 della Costituzione italiana appunto, perché poco si parla anche dentro l'ambito scolastico in molte scuole di Costituzione di come è strutturato questo Paese, perché noi riteniamo che i guai che ci sono oggi, i guai dell'Italia, i guai dell'Occidente, i guai della società allargata che non sia quella fluida, sono proprio questi, il fatto di non conoscere i propri diritti, quindi ostinatamente l'osservatorio ogni anno non si limita a celebrare la giornata con palloncino d'altro, ma vuole entrare nel concreto, nel merito, quindi discutere per quanto riguarda gli studenti di Messina di diritti e in questo caso dell'articolo 3 della Costituzione che dice che tutti quanti siamo uguali, che tutti quanti abbiamo gli stessi diritti, allora ci è sembrato importante. Abbiamo già avuto le risposte da parte degli istituti partecipanti e lunedì sarà solo il momento di consegnare ai vincitori, tra virgolette, perché poi i vincitori sono tutti coloro i quali partecipano, però sceglieremo, la giuria che noi abbiamo nominato sceglierà alcuni degli elaborati che ci hanno proposto, e quindi siamo contenti che anche quest'anno siamo riusciti ad entrare nel cuore della scuola e di quegli istituti che ci stanno seguendo in questo percorso che è un percorso lungo di dieci anni.